e ciao ragazzi benvenuti in un nuovissimo video di minecraft io sono la blu e oggi ragazzi vediamo oggi è un pochino tardi però oggi siamo nel nostro survival server ok avevo c'è un problema ancora il problema dovevo fare feedback al nostro server e guardate non c'è più la casa di Anna, la casa di Ninja, la casa di Chico, Mario, Alex, Strecato, Stefano c'è tutto sparito e si un pochino triste però questo non è sparito perché l'avevo fatto primo ci sono solo uno youtuber in questo server adesso però cos'è? avete visto? c'era proprio da parte a me il thunder mamma mia ok ragazzi aspettate che devo chiudere sto coso se no non mi spugge due cose ok ragazzi l'ho chiuso dal mio coso di server si emily ok poi ecco adesso questi sono dispenser che ci sono questo questi un olio crossbow di 6 3 1 2 3 ok questo se l'accediamo se l'accediamo tutto 6 dispenser ok dopo se ditemi in commenti no aspettate lo sapete se superiamo 100 iscritti io faccio un video ma mia deve essere proprio mmm ok ok l'avevo levato queste cose però ho fatto feedback e adesso è qui potete vedere ok adesso non c'è neanche la piscina mia per lion beh mmm guardato a lion ah avete visto avevamo fatto dei bug al server è vero avevo fatto dei bug al server poi questo che è un po' strano il mio server però poi devo fare tutto io ok ragazzi oggi un pochino tardi per fare questo cosa ok ragazzi noi dobbiamo portare il file più bello del mondo ok ragazzi ragazzi sono interessato tantissimo vado nelle cmd e cambio la giornata ok ragazzi l'ho cambiato sono interessato sono interessato ok ragazzi vediamo accediamo in 3 2 1 via oh non ci credo che bello ragazzi vedete guardate ok 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 uno da tutti mamma mia non ci credo che sto oh no 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 mamma mia che fortuna che fortuna no 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 tu qui qui poi da da tu uno ok adesso 1 2 3 f 1 ok f 2 ok 3 1 manca solo 3 buh non lo so ok f fatto f fatto ok mi sa che ho preso troppo da questo si ok 49 sono giusto però mi sa che avevo messo uno più ok sta per iniziare 3 2 1 creeper face aspettate che lo faccio anch'io non ho fatto il primo per questo che era non è questo 39 ok ecco qua voi siete interessati no ok ecco qua via eh mamma mia è la pioggia però però ragazzi guardatela guardatela oh guardatela adesso il secondo il terzo creeper face un altro creeper face un altro no ragazzi devo andare lontano subito che bello non è bellissimo no è finito i firework i firework sono finiti a tutte dispense ragazzi ok ragazzi andiamo a dormire e inizierà 2020 mamma mia sì 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 via 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 mamma mia aia ok ragazzi sono interessato mi chiediamo via 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 último obrig here mi chiamo i freddo mi chiamo ti ciao video amico 30 Hmm ok ragazzi se vi è piaciuto ok ragazzi dovete superare 100 iscritti siamo vicinissimi a 30 però se superate 100 iscritti ti vedo un pazzo faccio un ok è una sorpresa non vi posso dire una sorpresa perché è una sorpresa sorpresa non si può dire ok ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bellino mi piace superiamo alcuni like e poi vi dico faccio un tutorial se superiamo 2 like vi faccio un tutorial come si fa questa cosa con i dispenser che avete visto appena beh adesso spegni ecco ragazzi non posso eh vabbè ok ecco qui e pom si ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un bellino mi piace ok a gradi se vi è piaciuto questo video lasciate un bellino mi piace e abu minecraft server out comunque il mio cavallo è morto comunque nooo il mio cavallo ok ok così se vi è piaciuto questo video adesso mi piace e abu minecraft server out è piaciuto ok ok